bella a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale oggi finalmente siamo qui con il primo gameplay che vi porto nell'ambito del gaming come ho detto ho un xbox one oggi vi porterò finalmente doom è un gioco che alcuni di voi mi hanno richiesto all'interno dei commenti e gli altri giochi vi porterò successivamente vi ho portato doom perchè è un gioco che sto giocando veramente tanto ultimamente ci tenevo finchè la voglia è ancora forte di portarlo nel canale questo gioco è uno sparatutto uscito circa due mesi fa su xbox one, playstation 4 ma anche su pc è appunto un gioco la cui trama è appunto la storia di alcuni demoni che sono riusciti a penetrare le barriere tra il mondo dei morti e dei vivi e sono arrivati su marte questo sarebbe doom 4 che è il seguito del 3 che è uscito nel 2004 ma in realtà è una trama a sé stante e una trama completamente diversa oggi però non andremo a parlare della trama, della storia, della campagna che io sto facendo e che pensavo di portarvi anche qualche guida riguardante i segreti non so se qualcuno sta giocandoci ma oggi ho deciso di portarvi appunto la modalità multiplayer quindi andiamo nel gioco eccoci qua siamo su doom iniziamo a vedere le varie modalità che come ho detto sono molto interessanti e sono tre abbiamo la campagna lo snap map che è una modalità nuova molto particolare che ci permette di vedere mappe create eccola qua dagli altri utenti quindi gli utenti creano una mappa le pubblicano e noi possiamo giocarci la campagna e abbiamo il multigiocatore oggi andremo a giocare il multigiocatore perché sono molto curioso di provarlo non l'ho ancora provato e lo proverò la prima volta con voi a quanto so ha circa 4 modalità le più famose possono essere team deathmatch o dominio come potete ricordare faremo una sola partita perché non voglio appesantire troppo il video ora che abbiamo un piccolo caricamento non so quanto durerà comunque ciò che volevo dirvi è che questo gioco allora io non sono un grandissimo appassionato di questo tipo di sparatutto cioè io vado più sul classico Call of Duty Battlefield questo diciamo non è il classico sparatutto ambientato in una situazione realistica quindi in una guerra caduta o possibile futuro qui abbiamo una guerra particolare tra uomini e demoni un'ambientazione anche un po' surreale che è quella di Marte però è veramente realizzato bene c'è uno sparatutto che secondo me rende veramente bene l'idea e comunque adesso andiamo in partita perché andiamo a vedere il gioco perché è partito insomma ok iniziamo questo questo multigiocatore si sta connettando i server credo posso dire che la campagna fino ad adesso è abbastanza longeva perché mi porto via veramente abbastanza tempo è circa da una settimana che gioco circa due retta al giorno non ho molto tempo però è un è veramente una bella campagna perché non è come Call of Duty o altro che magari devi solamente non so svolgere la missione qui ci sono veramente tante altre cose da fare potenziamenti per le armi rune dove devi fare delle sfide particolari per combattere beh adesso comunque andiamo a giocare e ve ne parlerò magari più dopo più tardi allora qui abbiamo quindi cerca una partita dotazioni che abbia sono le varie classi diciamo come su penso che userò in boscata cioè quella che fuce d'assalto moduli hack non so cosa sono personalizzazione personaggio qui vai a personalizzare il personaggio ok vediamo lo facciamo dopo adesso andiamo a vedere facciamo una partita veloce quindi detto match a squadre dai proviamo un detto match a squadre solo la prima volta lo sto provando direttamente con voi quindi sono completamente all'oscuro di come di cosa mi si parerà davanti non posso annullare io che sto parlando vabbè quindi tutti mi sentiranno stiamo cercando tre giocatori comunque al massimo adesso io qua taglio il video e anche la registrazione ci troviamo direttamente in partita siamo tornati su doom ha caricato finalmente la partita siamo in detto match a squadre su sacrilegio ora proviamo a vedere la classe proviamo a metterci il funcino d'assalto con il revenant eccoci qua siamo in battaglia allora vediamo un po' questo va la c'era ok prima uccisione questo l'ho ucciso come funziona qui più 30 peper non ci sono dei compagni di squadra prendiamola in questa classe abbiamo il lanciarazzi e il fucile al plasma ok non me ne ho raccorto lanciarazzi e fucile al plasma perfetto vediamo andiamo avanti siamo 4 a 4 giocheremo tutta questa partita e vediamo appunto cosa pensate di questo doom sinceramente lo sto trovando molto carino il multiplayer ok uccisione cosa sto facendo ragazzi mi dispiace ma è la prima volta che gioco non non riesco a ovviamente a giocare bene subito all'inizio ma cerchiamo di vedere il tizio sta laggando è una modalità veramente interessante adesso cerchiamo di andare a prendere alle spalle questo tizio questo mi sparerà addosso sicuramente ok prima uccisione vera e propria ok interessantissimo il multiplayer veramente lo trovo veramente fantastico abbiamo trovato le munizioni ora andiamo a attaccare nuovamente questo tizio che ha attivato una cazzo di barriera ok perfetto no veramente ragazzi questo multiplayer è fantastico non l'avevo mai giocato ma lo trovo veramente interessante questo tizio è fermo visione free non so non so cosa ne pensate voi come al solito vi dico di commentare sotto al video di lasciare un like questa mappa mi piace anche abbastanza è interessante vedere come si possono usare le armi anche della campagna in una combo molto particolare abbiamo fucile al plasma con lanciarazzi vediamo se il prossimo spawn posso cambiare addirittura alla classe come su come su tutti gli altri giochi sparatutto abbiamo sbloccato in questo momento mi pare velocità questa è la è praticamente all'interno delle mappe si possono anche trovare dei potenziamenti in questo caso in questo momento io sto usando velocità vediamo se ok una kill vediamo se facciamo anche la seconda ok due kill ragazzi velocemente senza morire continuo ad avere il potenziamento velocità che a mio parere è fantastico perché ti permette di muovere molto velocemente la mappa ora sta esaurendosi come vedete in giro per la mappa e come anche nella campagna sono sparse le varie munizioni i vari punti vita per ricaricarsi comunque siamo 34-20 siamo in forte vantaggio rispetto agli avversari non lo sto trovando nessuno questa classe secondo me è una delle migliori perché secondo me il funcella plasma è veramente un'ottima arma c'è qualcuno dietro questa volta mi sa che non ce la farò ok ne ho ucciso un altro siamo a 5 di fila ragazzi incredibile è in furia bluswag è in furia omicida non cadere mamma mia se cadevo ne ho ucciso un altro ragazzi sto giocando veramente in maniera incredibile e ne uccidiamo un altro cioè siamo a 7 di fila è incredibile la prima volta che sto giocando e oh mio dio questo è il cannone gauss è un'arma che io adoro sul gioco sulla campagna perché spara con un colpo di solito fai fuori fuori oh mio dio ne ho fatto fuori uno lo letteralmente e ne uccidiamo un altro stiamo giocando veramente in modo incredibile ok adesso siamo morti vediamo prendiamo questo come possiamo vedere siamo 9 uccisioni totali e 3 morti la prima partita per noi è veramente eccezionale se vi piace questo gioco dov'è l'avversario non lo trovo ok l'ho ucciso ma lui l'ho ucciso me perfetto comunque veramente mi sto trovando veramente bene con questo gioco c'è una modalità veramente frenetica interessante non è il classico diciamo call of duty perché continuo a utilizzare il lanciarazzi quando non mi piace usare il lanciarazzi ok questo me l'ha fregato letteralmente questo sta usando non so cosa qua me la sono fregata ah l'ho ucciso anch'io ci siamo uccidi a vicenda beh diciamo che veramente allora io posso dirvi una cosa ne ho giocati tanto sparatutto ne ho giocati tanti di sparatutto soprattutto come ho detto prima call of duty e vabbè alle spalle non riesco a fermarlo ho giocato numerosi sparatutti però tutti erano call of duty battlefield non ho mai giocato uno sparatutto che non fosse uno di questi tipi e veramente questo gioco mi sta piacendo tantissimo qua ha cominciato prima lui a colpirmi non è stato facile comunque magari nel prossimo video cercherò meglio di capire come funzionano questi bonus questi potenziamenti che mi danno ogni volta che muoio perché qua non è proprio chiarissimo il modo in cui funzionano ah forse con questo bonus che mi sono messo sono capace di vedere dove sono i nemici vediamo sì penso di sì questo tizio non vuole morire e infatti non è morto ho perso un po' di 12-8 adesso ho chiesto qua se vabbè questo qua mi sa che ha sbloccato una nuova un'altra skin questo mi sa che lo uccidiamo easy perché era di spalle sì infatti no assistenza vabbè comunque ho detto io gioco su una partita oggi perché comunque le partite sono molto lunghe a quanto notato e magari non avete voglia di vederle non riesco più a uccidere nessuno però sono contento perché abbiamo fatto abbastanza che il press è la prima partita quindi mi è andata bene ok abbiamo fatto un'uccisione quindi il prossimo video magari proverò sempre se vi è piaciuto questo video una nuova classe magari perché questa classe si è molto buona ma come ho visto c'è anche il cecchino io il cecchino non l'ho ancora sbloccato nella campagna non so come funziona però insomma vediamo ci sono numerose altre armi nella campagna ad esempio che qui non vedo qua li andiamo da dietro mi sa che non ce l'ho fatta perché quello che stava colpendo mi è sparito me ne è apparso un altro vicino e niente comunque il fucile al plasma è un'arma molto utilizzata quando ci sto notando in multiplayer perché è un'arma che fa veramente molto danno è una specie di cecchino se vogliamo definirla così che appunto ma perché non riesco a ucciderlo questo dov'è questo dovremmo uscire a ucciderlo perfetto è un'arma abbiamo vinto benissimo abbiamo avuto comunque 7 minuti di gameplay non è stata molto facile penso che abbiamo vinto anche un obiettivo perfetto il primo obiettivo penso di essere non sono entrato fra i migliori no non sono tra i migliori vabbè era anche troppo se fossi entrato subito tra i migliori comunque è stata una partita veramente interessante sono molto contento di aver portato questo multiplayer perché è un gioco che veramente sto adorando tantissimo scusatemi se ero anche un po' preso dalla vabbè comunque sono qua in salito di livello adesso il video finito no sono in salito di livello avanzamento di livello siamo arrivati a livello 2 se vi piace questa se vi piace questo tipo di video io ve lo continuo a portare cercherò di capire un po' come funziona il multiplayer e quindi cercherò anche di spiegarvi un po' le varie modalità i potenziamenti come si utilizzano le armi quali sono le classi migliori quindi adesso usciamo dalla lobby fermiamo il video e torniamo a noi ringrazio tantissimo aver visto questo video ragazzi era un video particolare perché ho voluto portarvi per la prima volta sul mio canale un multiplayer giocato su Xbox ed è un multiplayer particolare perché è quello di Doom che è un gioco come ho detto mi è preso tantissimo spero vi sia interessato questo tipo di video come al solito voglio che lasciate like commenti per farmi capire se vi è veramente interessato ci vediamo presto con Clash Royale ho presto un video da caricare che riguardano le serie tv film e bella a tutti da Jackie Channel alla prossima